Benzina, Codacons presenta esposto a Procure della Repubblica di Torino, Cuneo, Alessandria, Novara, Asti, Biella, Vercelli e Verbania per indagare per aggiottaggio e truffa. Possibili speculazioni alla base dei rincari record dei listini. La magistratura mandi fiamme gialle nei distributori. In un anno i prezzi alla pompa sono aumentati del 50%. Anche in Piemonte, quindi, la magistratura dovrà intervenire sull'escalation senza sosta dei listini di carburanti. Il Codacons, unica associazione italiana a scendere in campo con denunce penali contro il caro benzina, e chiede di indagare sugli abnormi ricari dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa registrati in regione e sulle possibili speculazioni. In questi giorni i listini dei carburanti venduti presso i distributori sono letteralmente fuori controllo, con la benzina che in modalità self viaggia verso i 2,3 euro al litro e costa in media il 39,3% in più rispetto allo stesso periodo del 2021. Aumenti che, come segnalato oggi anche dal ministro Cingolani, non apparirebbero giustificati.